Il progetto da solo è un progetto talmente bello che dall'anno scorso hanno iniziato a cercarci autonomamente scuole di altre regioni d'Italia, di altre città, noi per diversi anni li abbiamo fatto soltanto a Roma e nel Lazio, oramai ci cercano dalla Lombardia, dal Veneto, dal Piemonte, dall'Umbria, dalle Marche, per cui ci stanno cercando autonomamente delle scuole che vogliono in qualche modo da noi sapere come possono replicare il progetto altrove. Tutti sappiamo che nell'Europa, nel mondo e nell'Italia in particolare c'è un grande invecchiamento della popolazione e con questo invecchiamento della popolazione vengono grandi sfide tra quella e l'invecchiamento attivo, come gli anziani possono vivere attivamente, essere parte totale della società. Questo oggi non succede, oggi l'anziano è uno da scartare, è uno che perde l'identità una volta che va in pensione e questa cosa porta molta solitudine. non è facile gestire i nomi, io lo dico sinceramente, abbiamo 15 nomi per 15 postazioni, una classe di 30, non è facile, però è molto molto simpatico, è una cosa divertentissima in cui si sta veramente bene, purtroppo io lo devo dire, noi abbiamo già fatto tutto e chi ci conosce lo sanno del piano. Noi abbiamo fatto il PowerPoint, abbiamo creato un CD, abbiamo fatto Facebook, abbiamo fatto Skype, abbiamo fatto il vecchio message, era l'inizio, abbiamo fatto tutto, siamo arrivati a fare anche elementi di Excel. Vi portate a vedere fantasia, un programma di massima perché varia molto dalla classe, è inutile che ci prendiamo in giro e non gli fate teoria, spiegate poco e fate vedere molto. Questo è il consiglio che io vi do. E qual è l'altra cosa finale? Volevo dire il prodotto finale, la soddisfazione del nonno che ti dice sono riuscita a spedire queste foto a mia figlia che sta in Inghilterra, più che proprio il CD materiale, cioè la soddisfazione di non aver avuto l'incontro con Skype con la scuola di che era, di passato di trappa, non mi ricordo, quella è stata veramente una grossa soddisfazione, importantissima. Allora io ho parlato con persone che gestiranno il corso nelle scuole superiori e abbiamo la domanda più importante è stata quella, come gestire il rapporto tra il nonno e il tutor e soprattutto se è preferibile che il tutor cambi durante lo svolgimento del corso oppure se è preferibile che resti sempre lo stesso. Così come dicono le linee guida, sicuramente è preferibile che resti lo stesso perché si crea quel rapporto di empatia tra il nonno e il tutor che permette anche di seguire un percorso di apprendimento fatto anche dalla complicità che poi viene fuori tra i due. È pur vero che alcune volte qualche ragazzo con un nonno non si trovi proprio. Prima di tutto cercare di snussare, cioè di dire che comunque è una situazione per un periodo di tempo e anche il ragazzo deve imparare a gestirla se è possibile. Se effettivamente è proprio impossibile il rapporto, allora cambiare la coppia cercando di non dar fastidio né al nonno, cioè di non fargli pesare la cosa, non è che dipenda da lui e cercando pure tra i ragazzi di magari farlo senza dar troppo nell'occhio. Ovviamente quello che è da evitare è che i ragazzi non devono entrare in competizione tra di loro e di misurarsi sulla bravura del nonno, questo l'abbiamo detto, cioè non si deve creare il fatto di dire che il mio nonno è più capace, è più sveglio, è più svelto, perché nessuno valuta i risultati del nonno tenendo conto di quello che è, se il tutor è capace o meno. Quindi se si fa capire questo poi non si dovrebbero creare, qualcuno ha espresso, non vorrei che tra i ragazzi si creasse poi una sorta di antagonismo, però devo dire che non mi è mai capitato questo, anzi in genere i ragazzi sono molto pazienti anche con i nonni che impiegano tanto tempo, hanno bisogno di qualcuno che gli stia veramente dietro. L'altra cosa è come organizzare un po' il corso e io ho detto che noi in genere abbiamo sempre fatto questo, poiché iniziamo a novembre, per Natale abbiamo fatto preparare sempre una prima cosa anche stupida ai nonni che è per esempio i biglietti d'auguri per Natale con scritte colorate, un disegno se riescono già a gestirlo, comunque una foto magari inserita aiutati dai tutor, cose di questo genere e la scuola ha messo spesso a disposizione di fare soltanto le buste colorate su cui far poi inserire il biglietto d'auguri. Daniela Corallo, 154esimo circolo didattico di Roma. Daniela perché è qui oggi e perché secondo lei questa iniziativa è importante? Per dare ai miei alunni la possibilità di aggiungere significato a quelle che sono le conoscenze che loro hanno sia come nativi digitali che come alunni che apprendono a scuola l'utilizzo delle nuove tecnologie. Quanti anni hanno i suoi ragazzi? Nove anni. Secondo lei per un bambino di nove anni insegnare ad un anziano a utilizzare il computer cosa può significare? C'è l'aspetto affettivo che insomma mettere al primo posto e hanno sempre meno tempo di entrare in contatto con il mondo degli adulti e questo mi sembra un'occasione tra le più insomma positive. E poi perché comunque si risponde, hanno la possibilità di mettersi nei panni degli altri proprio nel momento in cui la figura dell'adulto in generale della scuola, degli insegnanti è abbastanza insomma in crisi, in difficoltà, è una figura che ha perso un po' l'identità e anche la funzione, il ruolo nella società. Questo è un momento in cui loro si mettono dall'altra parte e insomma dovrebbero entrare in contatto con i conflitti che stanno vivendo come alunni. Allora, Marica Coletta, 141esimo circolo didattico San Cleto. Allora, diciamo che questo progetto, il nostro circolo in particolare ci crede moltissimo in quanto insegnare anche a livello informatico apre le menti sia dei bambini che vengono chiamati a investire un ruolo diverso da quello che è la loro quotidianità e sia per i nonni perché è stimolante dalle esperienze che abbiamo avuto, la loro positività che è stata riscontrata è quella di occupare del tempo, imparare a fare delle cose nuove e questo lo abbiamo constatato dal fatto che i nonni ci scrivono, ci mandano mail e quindi ancora stanno in contatto con noi come coordinatori o con i bambini stessi con i quali insomma hanno svolto questa esperienza. Fantastico. Vincenzo Carboni, 141esimo circolo didattico San Cleto. Allora, uno degli aspetti positivi secondo me è il fatto di mettere a contatto in relazione tra loro i nonni e i bambini a fasi invertite. C'è uno scambio non solo di competenze ma specialmente di esperienze. Persone di generazioni diverse imparano a interagire, a collaborare, integrando le proprie conoscenze e le proprie personalità. È un ambiente stimolante sia per i tutor perché si trovano per una volta a dover utilizzare le conoscenze acquisite trovando il sistema per comunicarle in maniera semplice. Quindi passano dall'altro punto di vista. Grazie. 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 Grazie.